Buonasera a tutti dal vostro grande capitano Napoli e benvenuti in questo nuovo video. Appena finito l'attesissimo big match tra Roma e Juventus, falevole per la diciannovesima giornata, è terminato con la vittoria in trasferca della Juventus per 2-1, con gol al terzo minuto di De Miralera, dopo il decimo minuto di Cristiano Ronaldo sul rigore, gol sessantottesimo di Perotti. In virtù di questa vittoria, la Juventus allunga sull'Inter, Juventus 48 e Inter 46, quindi due punti in più dell'Inter la Juventus. C'è da dire che parte subito forte la Juventus, un cross da fuori aria, la calcia la Juventus a centro aria, la svircola secondo me male, molto male, qua Smalling fa quasi un tappino di spaccata De Miralera e la Juventus va in vantaggio. Dopo 7 minuti arriva il raddoppio della Juventus su un calcio di rigore, su un calcio di rigore, il calcio di rigore è trasformato, Di Balastra per Palone Verutu, il francese dello stand, il rigore c'era, lo trasforma Cristiano Ronaldo e vanno sul 2-0. La Roma cerca di reagire e chiede un calcio di rigore che secondo me non c'era, ha una buona occasione la Roma Manoria, cioè la Roma nel primo tempo a accorciare le distanze, inizia il secondo tempo dove secondo me ha giocato quasi solo la Roma molto meglio, la Juventus non ha sfruttato dei contropiedi buoni ed prima c'era stata un'azione circa il sessantacinquesimo dove c'è stato un palo clamoroso di Dzeko, pochi minuti dopo in una zona molto convulsa, con un tiro di Dzeko, viene praticamente sull'aria spinta, stoffata col braccio dal giocatore della Juventus, Sandro, viene visto al Vare, viene decretato il calcio di rigore alla Roma, lo trasforma dal dischetto perotti e siga il gol per l'1-2, ci potrebbe essere anche una grande occasione per la Roma per cercare di arrivare al 2-2, viene annullato un gol di un fuorigioco per 3-1 millimetrico di Higuain, ma nulla appunto serve, forse un finale per la Roma che potrebbe anche andare vicino a 2-2, ma finisce così, Roma-Juventus finisce 1-2, la Juventus sbanca l'Olimpico di Roma, rimane in testa ai campionati e allunga più 2 sull'Inter, mettete un bel like a questo video, chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi, iscrivetevi al mio canale, auguro una buona notte dal vostro grande Capitano Napoli, ciao!